Quando mi ha messo in culotte, che mi è arrivata quella lettera del guando di sfida, che avevo la culotte, ma io non nemmeno che mi sono otto problemi, ho detto io ballo in culotte. Certo, ovviamente ne avevo parlato pure con Ramon, ho detto la culotte, annunzio mettere la culotte, è una cosa che non si stanno bene insieme, quindi io non sono quello, io come vede sono pantalone, camicia e giacca, persona molto elegante, persona di tanta classe che non può mettersi in culotte. Però se le devo dire una cosa, forse è l'unica in grado di saper prendere in unzio, perché per lei ho fatto l'impossibile. Comunque andiamo al quick step, non lo so se lei ha mai visto ballare un quick step, però vabbè io la faccio vedere, ovviamente lei balli con me oggi, non c'è né discussione che tengono, oggi lei sta vivendo un sogno. Prima glielo faccio vedere da solo, da solo ovviamente è più professionale, da professionista, con lei risulta un po' più una cosa da balera, però vabbè la faccio contenta se questo è il suo desiderio. Grazie a tutti!